L'ex direttore generale della Sanità di Lombardia, Luigi Cagliazzo, ha ricevuto minacce di morte. Lo ha denunciato il suo avvocato Fabrizio Ventimiglia. Cagliazzo è indagato nell'inchiesta della Procura di Bergamo per l'epidemia colposa e omicidio colposo per la gestione dell'ospedale di Alzano Lombardo, della mancata zona rossa in Valseriana e della gestione dell'RSA. Il nome di Cagliazzo è legato proprio alla riapertura dell'ospedale di Alzano Lombardo quando il 23 febbraio scorso, dopo la scoperta dei primi infetti da coronavirus, venne fatto riaprire senza aver adottato le dovute misure di sanificazione di contenimento come confermato recentemente dalle indagini. Così aveva dichiarato il 10 aprile a Tg1 lo stesso Cagliazzo, chiamato in causa per la riapertura dell'ospedale. È stata sospesa l'attività ordinaria dell'ospedale di Alzano salvaguardando solo gli interventi indifferibili. È stato chiuso per circa tre ore pronto soccorso, effettuata la sanificazione così come quella dei reparti dove erano stati i pazienti Covid e poi è stato riaperto il pronto soccorso con percorsi separati accettando solo casi urgenti. Se avessimo dovuto seguire la logica dell'ignoto primario avremmo dovuto chiudere nei giorni precedenti gli ospedali di Lodi, Crema, Cremona e Pavia e in quelli successivi tutti gli ospedali della Lombardia negando l'assistenza a tanti pazienti che invece abbiamo curato. Cagliazzo è tornato alla ribalta delle croniche con un recente servizio di report che ha svelato la dimenticanza di un ordine di caschi per la ventilazione di vitale importanza per l'azienda ospedaliera SST Bergamo Est di cui il presidio di Alzano fa parte. A riguardo il legale di Cagliazzo ha comunicato in una nota che a seguito del servizio andato in onda nei giorni scorsi su report della presunta dimenticanza che non vi è mai stata da parte del dottor Luigi Cagliazzo o dei dirigenti di Regione Lombardia di un ordine di caschi CIPAP pervenuto dalla SST di Bergamo Est nel marzo scorso si è diffuso un inaccettabile clima di violenza verbale e odio caratterizzato da beceri insulti ed auguri di morte pubblicati sulle web e sui social che hanno reso doveroso ed improcrastinabile il deposito di una immediata denuncia alla DIGOS per accertare ogni responsabilità identificando gli autori delle minacce e degli insulti. Il legale di Cagliazzo ha poi continuato nella sua nota affermando di aver ricevuto espresso mandato di perseguire chiunque diffonderà o continuerà a diffondere false notizie sugli accadimenti della primavera 2020.